Se vuoi conoscere i libri di cui parla questo video, clicca sull'icona che trovi a sinistra dello schermo, visualizza i prodotti e si aprirà il menu sempre aggiornato. Buonasera, bentrovati, eccoci al nostro appuntamento puntualissimi. Come sempre l'Antroposofia ringrazia la libreria Gavour per la preziosa ospitalità. Oggi comincio con una piccola chiosa tecnica. Succede con una certa frequenza che una di queste conferenze va in rete, tre ore, quattro ore dopo arriano le mail, il professore, bla bla bla, al punto, dico a caso, 40.3 e non ho capito, me lo può spiegare? Io rispondo sempre, guardi, le conferenze non lasciano dubbi, lei se la risenta con calma, se la riguardi e vedrà che la risposta la trova da solo. Questo succede quasi sempre. Poi naturalmente se non la trova mi scrive. Perché è tanto importante? Perché non bisogna subito fare una domanda appena si presenta un dubbio? Perché lo scopo unico per occuparsi degli argomenti che trattiamo in queste conferenze, in quest'epoca, è la costruzione della famosa cattedrale. Lo dice Rudolf Stein in altre parole, ma lo dice esattamente questo, che ha un dupece scopo. Indirizza correttamente in modo sicuro e sano verso il mondo spirituale e offre, dovrebbe offrire, se ben costruita, le forze per resistere alle prove della vita che per chi cerca un percorso spirituale possono essere particolarmente pesanti. In quest'ottica non bisogna sprecare l'occasione di rispondere da soli a una domanda, perché tanto i contenuti delle risposte col tempo si possono anche perdere. Non credo che nessuno si possa dire di avere tutta la rivelazione steineriana sempre presente senza una smagliatura, ma sarebbe un ottimista quantomeno. Quello che invece rimane è il lavoro, l'impegno per trovare da soli una risposta. Quello non si perde mai. È una bella fila di mattoncini che mettete nella cattedrale ben cementati al posto giusto. Lo scopo di questo seminario non è mai quello di fornire porzioni continue di pesce surgelato per soddisfare un appetito di intrattenimento esoterico. Lo scopo vero è quello di insegnare a pescare, cioè rendere chi lo segue un bel momento autonomo in grado di procurarseli da solo le occasioni e i pensieri spirituali, cioè di diventare autosufficiente. Chiusa la chiosa. Dunque, nelle tre spuntate di questa lunga telenovela precedenti abbiamo affrontato il rapporto con l'ogos delle nostre tre dimensioni fondamentali. Il sé, l'io, anima e la terra, il luogo dove viviamo. Nei confronti della terra abbiamo detto che, essendo ormai il Cristo diventato lo spirito della terra e non più del sole, il futuro della terra è quello di un seme che dovrà generare completamente un nuovo cosmo. Abbiamo specificato bene che questo procederà attraverso un annullamento della differenza tra questo mondo e il mondo oltre la morte, che si otterrà perché l'uomo continuamente dalla terra invierà elementi utili nell'altro mondo e questa è una delle conseguenze della presenza del Cristo, fino a arrivare ad annullare completamente questa differenza e quindi anche il concetto di morte che diventerà metamorfosi. E quindi, e chiudo la serie dei quindi, annullare l'abisso con i defunti, che è proprio l'obiettivo fondamentale. E Rudolf Steiner dice che l'abisso con i defunti si supera occupandosi di loro. Quindi noi non mettiamo tempo in mezzo, ci occupiamo proprio di loro. Quali sono le fondamenta, diciamo, ineludibili di un simile rapporto? La convinzione assoluta per chi vuole intraprendere un percorso spirituale è che noi viviamo costantemente in mezzo al mondo spirituale. Non si trova in qualche galassia ancora non individuata. L'aria che respiriamo è piena di mondo spirituale, respiriamo aria e spirito. Non lo possiamo percepire perché non abbiamo i centri occulti, i sensi occulti sviluppati. E incamminarsi verso l'iniziazione significa proprio questo. riattivare gradualmente tutti i chakra in modo di poter vedere la terza gerarchia con la coscienza immaginativa, la seconda con quella ispirativa e la prima con quella intuitiva, a entrare in rapporto con loro. Ma il mondo spirituale è sempre lì. Facendo un esempio un po' brutale, è come quello del cieco nato che c'ha sempre in mezzo al mondo, ai colori, alle forme e soltanto quando viene finalmente operato grazie a una saggia chirurgia e comincia a vedere, percepisce quello che è sempre stato intorno a lui ma gli mancava il senso per percepirlo. Altri due coronari decisivi, sui quali non si pensi che sia superfluo soffermarsi perché nel mondo dell'esoterismo sono stati avanzati molti dubbi in proposito. Nell'uomo c'è una componente eterna, la famosa scintilla divina. È una componente in fieri che di incarnazione in incarnazione acquista un contorno più definito, ma c'è. E la seconda assoluta convinzione che bisogna avere è che un rapporto con i defunti è assolutamente reale. Anzi, può essere più intimo e più stretto di quando il defunto era in carne ed ossa perché non c'è l'ostacolo del fisico. Inoltre, ci sono anche dei corollari che comprovano tutto questo. Noi intessiamo il nostro karma nella stessa sfera in cui vivono i defunti perché la vita dopo la morte continua, per i defunti ovviamente, ma in una forma che un materialista non potrebbe mai accettare e che noi esamineremo oggi e purtroppo non basterà una conferenza. L'argomento è pesante e speriamo che non ci perdiamo troppi ascoltatori o videoascoltatori lungo il percorso. Inoltre, abbiamo spiegato nelle conferenze passate che si concatenano, vedete, una con l'altra strettamente per cui se qualcuno le ultime non le avvise è meglio che le vada a rivedere prima di questa e le veda con molta calma e ponderatezza. Il sé spirituale, questa scintilla divina, abbiamo detto che non si incarna mai oltre il terzo massimo quarto anno di vita ma diciamo pure terzo del neonato e da lì poi irradia in tutto il corso dell'esistenza umana in quella che noi chiamiamo anima o si può anche chiamare io transitorio, contingente, provvisorio. Questo è fondamentalmente importante perché questo sé vive perennemente nella stessa sfera in cui vivono i defunti e questo già ci dice quanto se li abbiamo vicino. Ora, ci sono addirittura delle correlazioni particolari. Per esempio, se muore un defunto, beh, se era antroposofo a mantenere o cercare un rapporto con lui è importantissimo. Nei due sensi. Si può anche immaginare perché. Addirittura il movimento antroposofico, questo lo dice Ludo Stani, come tutto quello che vi dico, ho rinunciato io dall'inizio alla formula che il dottore dice a Ludo Stani, specifica giù. No, no, tutto quello che dico è Ludo Stani, quando aggiungo qualcosa di mio, proprio al minimo indispensabile, avviso. Il dottore dice che il movimento antroposofico non potrà progredire senza l'aiuto degli antroposofi morti. Perché da quella sfera hanno un potere d'azione immenso. Per esempio, possono condizionare le anime in modo positivo che nel momento in cui stanno per incarnarsi chiedono sempre a quelli appena defunti notizie, luci, illuminazioni sul mondo terreno in cui dovranno incarnarsi. Immaginate la possibilità di indirizzo che ha un vero antroposofo. Qui però bisogna scendere un pochino più in dettaglio. Dopo la morte l'anima subisce una metamorfosi, ma continua ad evolvere. E noi la studieremo a fondo, questa metamorfosi. Non c'è nessuna intruzione brusca della coscienza, dell'autocoscienza o della vita. Della vita in senso generale. E il defunto non è inerte nei mondi spirituali. Si lavora moltissimo, si lavora persino, ma questo lo vedremo dei permettendo in una conferenza successiva, alla costituzione della Terra, alle modificazioni dell'orografia, dei regni terrestri, animali e vegetali. Qui lavoriamo sotto lo stimolo dei sensi, evidentemente. La lavoriamo sotto lo stimolo diretto delle gerarchie. E questo è uno stimolo crescente. Più si procede utilmente nel percorso, più si viene in contatto con le gerarchie più alte. Più alto è il tenore dell'impegno che ci viene richiesto. Il defunto conserva sentimenti e volontà come li aveva sulla Terra. Non perde nulla di quello. Però acquista delle qualità animiche nuove che qui non si possono acquistare. Ha una particolare caratteristica che va molto sottolineata. Tende a sperimentare pensieri, non tutti, ma alcuni pensieri soprattutto, insieme ai superstiti. Io, quelli che sono rimasti incarnati, non posso chiamarli vivi, perché molto spesso un defunto è più vivo, ma sicuramente, di tanti incarnati. Chiamiamoli i superstiti, anche se sembra un po' avventuroso. Perché senza di loro quei pensieri non li potrebbe sperimentare. Qui cominciano un po' le dolenti note. Il defunto può entrare in contatto solo ed esclusivamente con le persone che ha conosciuto e frequentato sulla Terra. E questo riguarda anche le anime degli altri defunti intorno a lui. Se si trova in mezzo a mille defunti e non ne ha conosciuto nessuno qui, è completamente solo. Questo dà un'altra idea del valore e del significato dell'esistenza della Terra. Perché se non potessimo fare conoscenze qui, saremmo assolutamente soli nell'aldilà. E nell'aldilà una persona che non segue discipline esoteriche ci sta a secoli. Secoli di solitudine possono essere molto pesanti. Perché ho detto dolenti note? Perché adesso vedremo che Rudolf Steine si esprime in maniera piuttosto cruda, in proposito. Ma io presumo, e questo deve essere dato per scontato, che chi esegue questo seminario dall'inizio, soprattutto se ha ascoltato i vari suggerimenti metodologici, ormai una certa base di questa cattedrale dovrebbe averla conosciuta. Possiamo cominciare a metterci qualcosa di piuttosto impegnativo, diciamo pure crudo. Ma d'altra parte i segreti della vita, gli enigmi più grandi, si trovano solo avendo il coraggio di oltrapassare la soglia della morte. Perché questa premessa? Perché, per esempio, il defunto non può assolutamente contattare esseri umani materialisti. Proprio non li vede. Il pensiero materialista dal mondo spirituale non esiste. Dice, ma che vuol dire? Ma prendete tutto un manuale, come si costruisce un aereo, ci saranno centomila pensieri anche intellettualmente raffinati. E' un vuoto dal mondo spirituale, completamente impercepibile. E questo è un grosso problema, perché il defunto tende molto a collegarsi con le persone con cui è stato il rapporto affettivo. E se non le trova è una sofferenza piuttosto grave. Al punto che c'è anche un elemento preciso, acuto. Nel momento della morte, esattamente in quel momento, questa conferenza si occupa proprio di quello, si chiama il distacco dalla terra. Il defunto rivolge tutte le sue energie animiche alle persone più care. E' un milionesimo di secondo, ma il tempo è già quello dei mondi spirituali per lui, dove in un secondo si può vivere tutto un'epoca. Di tempo e spazio dovremo parlare, ma anche quelli li devo rinviare. Se in quel secondo percepisce, e percepisce bene perché ha una sensibilità non più ostacolata dal corpo, che nei suoi cari c'è una sfiducia verso un'esistenza dopo la morte, diciamolo pure, un agnosticismo acceso, quel rapporto si tronca quasi sempre per tutto il periodo in cui i superstiti sono ancora vivi. Quando poi muoiono, si liberano di Arimane, che è la causa di quel pensiero materialista, e allora andando nei mondi spirituali si riapre la possibilità di un contatto col defunto. Ci possono volere decenni. Perché ho fatto una premessa un po' cautelativa? Perché Rudolf Steiner ha avuto delle esperienze con defunti disperati perché non riuscivano a contattare nessuno sulla terra dei propri cari di cui hanno bisogno per molto tempo, e arriva persino a usare parole come disperazione. Ma la frase più grave è quella che dice sono state queste esperienze con i defunti che lo hanno spinto ad intraprendere l'attività spirituale che noi conosciamo. è stato spinto dalla sofferenza dei defunti. Perché in un'epoca materialista, adesso noi vedremo perché, non si vive male solo sulla terra. Ora, questo non deve essere preso solo da questo lato negativo, deve essere preso dal lato positivo, cioè come un impulso a fare tutto il possibile per venire incontro a questa situazione. Perché anticamente i riti religiosi liturgici avevano un certo potere di contattare i defunti e viceversa. E questo è il primo problema per il defunto. Il secondo è quello dell'orientamento. I fondatori delle grandi religioni hanno sempre inserito dei pensieri finalizzati allo scopo di non entrare dopo la morte nei mondi spirituali ciechi e sordi. Queste sono proprio le parole di Rudolf Steiner. Ciechi e sordi. Che non funzionano più. Pensieri che non funzionano più. Pensate, i fondatori delle grandi religioni hanno operato molto tempo fa. Sare quanto è cambiato il mondo da allora. Quindi, la presunzione più grave, è ricorrente questa, è quella di credere che per il solo fatto di essere arrivato nel mondo spirituale, il defunto lo conosca. Affatto. Si può stare nel mondo spirituale senza rendersi conto di nulla. Ed è una situazione pesantissima. Il dottore dice proprio, in quest'epoca i defunti non sanno più come raccapezzarsi, da che parte rivolgersi. Hanno perso completamente l'orientamento. Questo che cosa significa? Significa che la conoscenza dei mondi spirituali, l'abbiamo detto tante volte, va fatta qui, sulla Terra. La Terra non è stata creata a caso. Persino le gerarchie, se vogliono avere contezza di se stesse e di molti fenomeni, lo devono fare attraverso l'uomo terrestre. Non a caso, la massima creazione di tutto l'universo è il cervello umano. Non c'è nulla di più grande e di più evoluto. Potete andare a qualunque galassia anche 100 milioni di anni luce, ma il cervello umano è la cosa più perfetta in assoluto. Cervello a che serve? E serve proprio a conoscere. Quindi i mondi spirituali vanno conosciuti qua. E per questo all'uomo che aveva sviluppato finalmente il pensiero, l'uomo occidentale dell'era moderna, approfondiremo fra poco, è stata data l'antroposofia in quest'epoca. Perché l'antroposofia è proprio una descrizione dei mondi spirituali. La cosmogonia steineriana è vastissima. E questo ha un valore formidabile. Perché? Perché il defunto vive molto di ricordi finché tutti questi ricordi non si metamorfosizzano in qualcos'altro. Ma ci vogliono parecchi anni. I ricordi rimangono un patrimonio importante del defunto perché attraverso i suoi ricordi comincia a posizionarsi nel suo nuovo mondo in cui si trova. Sono la base. I ricordi della vita precedente sono gli occhi con cui comincia a guardare questo nuovo mondo completamente nuovo per lui. Nuovo se non è un iniziato, naturalmente. Ai vari gradi dell'iniziazione. Anche a un primo o secondo grado il mondo non è più così nuovo, ovviamente. Questo poi comporta un altro corollario non semplice. Quindi bisogna aiutare i defunti a superare queste due enormi difficoltà. quella di contattare i propri cari congiunti, amici, colleghi, compagni di gruppo, quello che volete per non ritrovarsi in questa solitudine terrificante. E poi sapersi orientare attraverso una conoscenza che ti può venire solo sulla Terra a meno che non sia morto un antroposofo molto esperto, un devoto vero di Rudolf Steiner. Perché le due vere gambe su cui si cammina sono la devozione e la fedeltà che oggi sono scarsissime. Nel mondo esoterico sono quasi una rarità. No, senza quasi, sono una rarità. Qui si aggiunge un'ulteriore difficoltà. L'Undostale usa una parola che io riferisco proprio pari pari perché è insostituibile. Dice l'aiuto che un defunto può dare a un altro defunto appena arrivato è trascurabile. in confronto all'aiuto che possono dargli i suoi congiunti rimasti sulla Terra. In poche parole che vuol dire che chi è rimasto sulla Terra può aiutare un congiunto morto moltissimo mentre un altro del congiunto magari anche della stessa famiglia morto prima e si trova intorno a lui quasi niente, non può fare quasi nulla. Sempre che non sia un iniziato o un antroposofo di altro. È chiaro, non lo voglio più rivedere. Questo è un corollario pesantuccio che però si può girare anche in una forma, diciamo così, di conforto. cito un caso personale coppia di coniugi, incidente stradale lei muore, lui si ritrova in ospedale un po' malconcio ma tutto il tempo diciamo perché non sono morto anch'io? Era sincero. Era sincero, una coppia benissima, affiatata, un bel rapporto. Alla fine un giorno gli ho detto senti ma tu gli volevi veramente bene a tua moglie, sì. Allora guarda ti devo informare che il fatto che non sei morto può essere una fortuna perché la puoi veramente aiutare e ce n'ha bisogno come tutti i defunti. Se fossi morto pure tu chi vi aiuterebbe a voi due? Chi ci avete intorno a voi che potrebbe... questo fatto lì per lì non gli diede nessuna reazione disse le solite frasi ma sì queste tutte le balle che si dicono per confortare ti ringrazio ma invece dopo una decina di giorni ci tornai e cominciò a farmi delle domande e piano piano un libro, un altro, un libro, un altro è riuscito a trasformare era bravo, aveva delle risorse e tutta questa sofferenza è in attività è diventato precisissimo in tutto quello che oggi diremo che può aiutare i defunti quindi il fatto di essere gli unici a poterli aiutare può anche essere un conforto uno può anche dire beh se fossi morto pure io non le potrei fare per niente per lui o per lei invece dalla terra posso fare tantissimo e questo tantissimo è tanto per noi quanto per loro soprattutto aggiungiamo i nostri ricordi ai suoi inizialmente soprattutto è fondamentale è un arricchimento enorme soprattutto se riusciamo a inviargli un'immagine viva di se stesso che è il compito che il defunto immediatamente si trova a dover affrontare non avendo più i parametri tradizionali tempo, spazio, materia, tatto cerca di crearsi un'immagine di se stesso se la riceve dalla terra è un grossissimo aiuto quindi la qualità di questa immagine è importante questo per esempio si rivela abbastanza decisivo durante il funerale da noi non è così frequente ma io mi ricordo nel mondo anglosassone la commemorazione del defunto è una cosa per lo meno per i ricordi che ho io essendo vissuto in quel mondo per il tempo in cui ho vissuto anche diverse persone in un funerale prendevano la parola e non era una celebrità era un parente qualcuno del gruppo qui c'è un'ulteriore suddivisione che può essere anche addirittura sorprendente se si commemora la tragedia di un bambino morto che è una tragedia è meglio che la commemorazione si tenga su livelli universali, generici faccio un esempio un angioletto si è aggiunto al coro degli angeli tutte le stelle ti accolgono questo tipo di commemorazione per un bambino è perfetta invece se si commemora un anziano un adulto diciamo oggi sul termine di anziano si esagera un po' a 75 anni un anziano no, secondo me un po' di più comunque se si commemora un anziano è meglio fare il contrario la commemorazione deve essere la più pertinente la più precisa bisogna riuscire a ricreare un'immagine positiva naturalmente questo già si fa naturalmente ma della vita del defunto del suo ruolo e se ha portato a termine qualcosa di importante sottolinearlo, descriverlo attentamente questo per un defunto anziano è molto importante è quell'immagine di cui parlavamo prima che già nel funerale può raggiungerlo e diventa una prima base su cui lui poi continua a costruire qui ci sono ulteriori due differenze ovviamente quando muore un bambino la desperazione dei genitori è inestinguibile lo so perché mi permetto di dirlo mi arrivano tante mail di questo tipo la sofferenza è enorme c'è una consolazione quando muore un bambino non si perde rimane esattamente nella stessa sfera astrale in cui vivono i genitori è il dolore stesso dei genitori che lo trattiene per cui purtroppo questo dolore bisogna viverlo che per il bambino è un aiuto immenso perché avrebbe voluto vivere ancora per qualche tempo almeno nel corpo fisico il dolore dei genitori lo trattiene non si perde un bambino defunto continua veramente a vivere intorno ai genitori con l'anziano è il contrario l'anziano impara col tempo a rimanere lui aggrappato ai suoi cari non si perde nemmeno lui certe volte comincia a mandare tratti della sua anima nel corpo astrale nella sfera in cui opera il corpo astrale dei suoi cari prima ancora di morire quindi il defunto non si stacca a lui questo è sicuro se qualcuno pensa che muore un genitore ai 70-80 anni chissà dove è finito no 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 sta proprio nella stessa sfera in cui opera il corpo astrale dei figli della moglie sempre che non si tratti di una famiglia dei materialisti perché allora proprio nemmeno li vede e questo per il defunto è una disperazione grossa sono quegli episodi di cui parla Rudolf Steiner a questo punto devo aggiungere qualcosa che non c'entra nulla con tutto questo ma è l'occasione giusta perché di domande su questo tema ne arrivano tanto è il tema della cremazione cremazione sì, cremazione no le domande sono tutte di questo tipo beh in materia Rudolf Steiner non è proprio assolutamente lineare perché per esempio in un testo dice che la cremazione andrebbe riservata a chi ha già una certa familiarità con i mondi spirituali effettivamente quando nei suoi cicli di conferenze parla di qualche socio defunto da poco o che collaborava alla costruzione del primo Geteanum o agli spettacoli di Eurythmia o agli spettacoli dei quattro drammi steineriani in quei casi lui dice sempre cremazione addirittura in certi casi annuncia lui stesso l'ora è il giorno della cremazione in un'altra circostanza dice che addirittura il fuoco della cremazione non è un vero fuoco è un risveglio e cita il caso di una socia che proprio al momento in cui è cominciata la cremazione ha recuperato la coscienza che aveva perso in un altro caso dice addirittura che la cremazione in certi casi aiuta il corpo eterico a svincolarsi nel modo migliore come regolarsi perché da una parte dice che va riservata a quelli che hanno già una certa familiarità poi secondo me la strada è quella del buonsenso e qual è? se il defunto ha manifestato fermamente la sua volontà di essere cremato per esempio in un testamento anche testamentoolografo è scritto da lui su un pezzetto di carta poco prima di morire oppure ha manifestato questa volontà in famiglia, nei gruppi in modo inequivocabile beh bisogna accontentarlo va cremato perché? perché potrebbe aver percepito che per lui è proprio necessaria la cremazione perché in certi casi può essere utile in tutti gli altri casi l'inumazione, la sepoltura non ha nessun problema è qualcosa a cui si può accedere tranquillamente Massimo Scaliggio lo fu sepolto la signora Benvenuti che collaborava con lui al gruppo romano pure quindi suggerisco di affrontarla così ora il defunto ha due problemi fondamentali a parte quelli che abbiamo già visto del collegamento però il collegamento è finalizzato a cosa? a ottenere il nutrimento ha bisogno di nutrimento è un'entità spirituale quindi assume le stesse difficoltà e le necessità delle gerarchie a un livello diverso ma è quello ha bisogno di nutrimento non c'è nessuna forma di vita o materiale o eterico ma sa che non abbia bisogno di nutrimento quando lo prende il nutrimento un defunto lo prende dai pensieri delle anime dei congiunti dei suoi cari dei colleghi con cui è riuscito a collegarsi mentre dormono quello è il nutrimento dei defunti il dottore fa un esempio se non innaffiamo i nostri orti se la siccità è una stagione tremenda chi vive di quegli orti muore di fame proprio soffre la fame e i defunti in questa età la soffrono molto non solo loro le gerarchie si nutrono allo stesso modo per esempio le arcai in questo periodo sono veramente una situazione di nutrimento disastroso questo si ritorce contro di noi perché possono agire poco gli arcai sono le guide dell'epoca pensate che ruolo importante hanno infatti che l'epoca sta andando un po' a rotoli non è tutto colpa loro naturalmente però che siano indebolite è fuori discussione e il defunto non trova i suoi cari non trova oppure magari trova anche i suoi cari sì non proprio materialisti non proprio agnosici però insomma con una spiritualità deboluccia deboluccia per fortuna il dottore dà alcuni attutimenti importanti per esempio ma se uno un cultore di leopardi per esempio la sera si addormenta recitando a se stesso l'infinito a memoria beh indubbiamente uno spuntino il suo defunto morto se lo fa poca cosa però non è proprio la fame assoluta naturalmente se il defunto è un antroposofo serio scusatemi se ce la metto sta parola ma ci vuole ah il defunto fa fa scorpacciare fa indigestione bisogna insegnargli a calmarsi si nutre in maniera eccezionale noi siamo i libri viventi del mondo spirituale sia un defunto che una gerarchia se vuole apprendere pensieri umani le legge nelle anime degli esseri umani mentre dormono questo comunque risolve il primo problema del nutrimento il secondo è quello dell'orientamento e qui c'è la famosa ne abbiamo già parlato lettura ai defunti cioè Rudolf Steiner dice che niente aiuta più un defunto che la circostanza che un suo caro una persona molto legata a lui naturalmente antroposofo prende un testo di antroposofia e glielo legge mentalmente o a mezza voce anche è utile se il defunto non era un antroposofo perché l'antroposofia il dottore la definisce l'elisir dei due mondi essendo fondata sulla coscienza immaginativa e ispirativa intuitiva che sono le coscienze superiori dalle quali lui ha tratto tutta la sua opera la base dei nostri concetti antroposofici di quelli che io cerco qui di esporre senza troppi sfandoni sono quelle derivanti dalla coscienza immaginativa ispirativa intuitiva che sono proprio quelle in cui si trova a vivere il defunto quindi il concetto antroposofico lo ricepisce anche se non era antroposofo come un elisir di vita proprio e di orientamento e comincia attraverso chi legge a capire il mondo in cui ci trova può sembrare incredibile ma è proprio così allora qualcuno può chiedere qualcosa in più in materia beh il dottore tutto sto chiaro dice che la lettura deve essere una recitazione che vuol dire beh non siamo tutti Carmelo Bene o Vittorio Gasman evidentemente però l'idea può essere quella del grande teatro italiano nel suo periodo migliore in cui gli attori recitavano poi il verismo ha portato l'abitudine di recitare come si vive normalmente come si parla e può darsi pure che in certe situazioni drammaturgiche sia giusto ma recitare è qualcosa di diverso che parlare magari in dialetto correntemente bisogna cercare di recitare quello che si legge lentamente scandire bene le parole io poi mi sentirei di suggerire qualche altra cosa in più può succedere che e questa è una sensibilità che si sviluppa alcune traduzioni siano un po' farraginose non è colpa del traduttore perché secondo me le critiche che si fanno alle traduzioni sono proprio le critiche dei farmacisti dell'esoterismo perché sono eccellenti le traduzioni dei testi antroposofici però ci può essere un caso in cui il lettore deve riassumere magari un termine un pochino più a consoni alla propria lingua perché il defunto per 7-8 anni ancora capisce la lingua dopo non ne ha più bisogno percepisce totalmente il valore immaginativo ispirativo intuitivo dei pensieri e poi capire pensieri espressi in qualunque lingua quindi ogni tanto se uno ha la sensazione che quella traduzione era un pochino troppo cervellotica riassuma sempre recitando con calma quel passo consiglio ancora questi suoi consigli miei non lo dice Rudolf Steiner questo è il secondo di procedere per argomenti cioè se in una lettura un argomento importante è completato basta per quella sessione fermatevi lì perché anche il defunto come chi assegue queste conferenze deve poter assorbire anzi deve fare un grosso lavoro di decodificazione di decrittazione e piano piano si deve costruire la sua cattedrale perché se la deve costruire anche lui ora il dottor Stein raggiunge un'altra cosa che si può fare la lettura più defunti contemporaneamente sì sì per esempio nel gruppo di Perugia in un anno e mezzo sono mancati tre membri è chiaro che una lettura loro tre non può che essere così collettiva aggiungerei che anche qualcosa che è una mia esperienza però non lo dice il Dudo Steiner leggendo a più persone specialmente se erano tutti antroposofi lì si aiuta molto poi a rimanere collegati tra di loro nella sfera in cui vivono che non è una cosa facilissima perché collegarsi nei mondi spirituali per le anime significa interpenetrarsi una con l'altra quando si staccano è come se non si conoscessero per cui è un'operazione abbastanza farraginosa se ricevono questa lettura ben fatta insieme continuano con l'inerzia della lettura a trovare facile collegarsi tra di loro ed è un grande aiuto grandissimo aiuto qui naturalmente si pone la grande domanda che fecero anche a Rudolf Stein spesso chi ci dice che la nostra lettura questo lavoro lo ricevono se non sei un iniziato la prova e non te la può dare nessuno ci vuole almeno la coscienza immaginativa però Rudolf Steiner che dice questo aggiunge pure che la sua esperienza di tanti casi e lui è partito proprio dall'assistenza ai defunti conferma che la ricevono i defunti ricevono una lettura ben fatta con una devozione una fedeltà al testo genu scusate genuine qui aggiungo un'altra cosa io questo oggi si aggiunge troppo vero l'esperienza non è di ieri perché c'è sempre qualcuno per cui leggere un parente un defunto un amico uno di un gruppo uno di un altro un antico antroposofo con cui si è cominciata la strada personalmente ho notato qualcosa che secondo me comprova che lo ricevono è faticosissimo leggere ai defunti io mi sono trovato molte volte chiamato a spiegare intere conferenze di Rudolf Steiner era una sala viena quando non c'erano questi mezzi moderni così a voce e leggevo commentavo ma anche per due ore non mi sono mai stancato anzi come dice Rudolf Steiner diceva sempre a me le conferenze mi danno vita sono gli incontri personali che mi distruggono ed è vero gli incontri personali possono essere proprio vampirici come mai uno dopo 20 minuti che legge a un defunto è sfinito perché più di 20 minuti 30 minuti non è bene leggere per loro e anche non ce la fa chi legge e perché deve passare questo enorme abisso che lo lega a questo suo caro comunque defunto secondo me è una controprova abbastanza evidente rimane un piccolo colorario muore l'antroposofo di una famiglia in cui nessuno si è mai interessato all'antroposofia chi la fa la lettura per lui? nessuno ci può essere un sostituto beh se faceva parte di un gruppo antroposofico la faranno sicuramente i membri del gruppo se non la fanno non è un vero gruppo si deve sciogliere subito perché sta semplicemente pretendendo di essere un gruppo antroposofico ma la fanno sicuramente ulteriore quesito e se uno non stava nemmeno in un gruppo questo oggi è un problema grosso un problema grosso perché costituire un gruppo e poi mantenerlo in vita bene non è una cosa facile mi scrive a molte persone che non riescono a trovare un gruppo in cui entrare e ancora di più che lo trovano e poi dopo un po' di tempo sono costretti a uscire perché vedono delle cose che non quadrano faccio una piccola chiosa questo seminario fin dall'inizio aveva anche la pretesa di una democrazia geografica siccome sapevo di tanta gente che si lamentava che erano plenamente solo perché nella zona in cui vive non c'era niente antroposoficamente uno è via a Milano è pieno di associazioni e scuole eccetera è una discrepanza geografica chi segue questo seminario propedeutico insomma dovrebbe poter annullare questa sfortuna geografica perché la chiave di volta è la possibilità sin dall'inizio di rivolgermi le domande per cui sostanzialmente parlando non è proprio solo e anzi in certi casi secondo me chi ha seguito questa strada è andato più lontano di chi sta in certi gruppi allora qui però faccio un ulteriore con l'Ollario se non c'è il gruppo se i familiari non ne vogliono sapere io suggerisco da tanto tempo e qualcuno lo fa di lasciarsi aperti alla possibilità di cominciare un gruppo di lettura che non è un gruppo esoterico antroposofico un gruppo di lettura può cominciare con due persone Cristo dice quando due si riuniscono nel mio nome io sono in mezzo a loro quindi l'antroposofia c'è e che fanno si trovano una sera alla settimana si riuniscono uno legge tre pagine poi l'altro altri tre e si leggono tutta una conferenza di Rudolf Stein oppure di un libro di quelli scritti un capitolo mezzo decidono prima poi chiuso finito silenzio si medita su quello che si è letto o sui altri esercizi che uno fa poi ognuno a casa sua se c'ha dei dubbi mi scrive e gli rispondo spesso consiglio anche la sequenza dei testi da studiare l'esperienza dice che se i gruppi prima o poi crescono sono centrifughi irradiano qualcosa i due diventano tre quattro questo un gruppo di lettura serio è già un gruppo validamente antroposofo è un suggerimento piuttosto accalorato ora abbiamo visto diverse attività di aiuto ai defunti per esempio nella lettura nel fatto di leggere durante il giorno testi antroposofici fare esercizi eccetera perché poi il defunto li prende la notte c'è anche una salvaguardia della lettura che in ogni caso ammettiamo che non venga ricevuta dal defunto comunque chi la fa ha praticato una conferenza del dottore e il defunto poi se la legge mentre il lettore dorme quindi un lavoro che non va mai a vuoto ora alla base di tutto questo si può vedere un richiamo a una delle due colonne fondamentali del percorso antroposofico perché sostanzialmente parlando chi si rivolge ai depunti medita la preghiera spesso è molto egoista vedremo se in futuro potremmo approfondire proprio il tema della preghiera spesso si prega per se stessi no no quando uno medita per un defunto quella è proprio meditazione e infatti le due grandi colonne del percorso sono la concentrazione che abbiamo già studiato tre conferenze fa e la meditazione spesso vengono usate come sinonimi succede anche a Rudolf Steiner perché hanno molti punti in comune ma sono molto diverse sono completamente diverse è difficile fare bene la concentrazione ma mi sono accorto che quasi nessuno sa fare bene la meditazione adesso faremo lo stesso percorso che abbiamo fatto per i sei esercizi fondamentali partiamo dal testo di Rudolf Steiner meditazione e scegliamo la madre di tutte le meditazioni che è la rosa croce che si trova descritta nel quinto capitolo della scienza occulta importa che l'anima si dedichi a delle rappresentazioni ben determinate per loro natura devono essere capaci di esercitare una forza che risvegli determinate facoltà nascoste nell'anima umana siamo molto lontani dalla concentrazione la concentrazione ci chiedeva un'attività arida fredda di esame di un oggetto immaginato qui addirittura c'è una forza che risveglia determinate facoltà nascoste dell'anima umana il compito della meditazione è questo risvegliare delle forze le migliori rappresentazioni a tale scopo sono allegoriche o simboliche beh la rosa croce una croce nera con sette rose al centro ci si può servire anche di altre rappresentazioni importa che l'anima applichi tutte le sue forze per non ammettere altro nella coscienza che la suddetta rappresentazione ed ecco perché in un sano percorso antroposofico la meditazione va cominciata ad approfondirsi dopo i sei esercizi perché qui è detto chiaro che importa che l'anima applichi tutte le sue forze per non ammettere altro nella coscienza e questa è proprio la concentrazione è lo sforzo della concentrazione di rimanere sullo spillo continuamente arriva un altro se uno non ha fatto bene la concentrazione che poi per farsi bene deve essere seguita dagli altri cinque farà molto difficile che faccia bene la meditazione ed è questo il motivo per cui io riscontro che si medita male perché non si fanno bene i sei esercizi la concentrazione è un esercizio massacrante lo so che col tempo diventa anche più difficile però è la base della meditazione la disciplina occulta è diretta a concentrare l'intera vita dell'anima solo una sola rappresentazione ecco la disciplina occulta è diretta questo è qualcosa che vi assicuro è stato poco capito poco poco molta divulgazione antroposofica è dispersiva inutilmente dispersiva esce un libro due giorni dopo sparano una conferenza il dottor Stani ha detto bisogna aspettare un anno importa che l'anima applichi tutte le sue forze per non ammettere altro nella coscienza la disciplina occulta è diretta a concentrare l'intera vita dell'anima sopra una sola rappresentazione essa deve venire posta dalla volontà al centro della coscienza ecco l'esigenza del secondo esercizio il secondo esercizio dei sei la volontà se non hai sviluppato una volontà forte e non ci riesce a fare una buona meditazione sta lì sì diventa un momento di relax niente di più l'essenziale è che per effetto del modo della rappresentazione l'oggetto di essa sciolga l'anima da qualsiasi riferimento al mondo fisico quindi la concentrazione serve al primo esercizio radunare tutte le forze interiori imparare a fare questo che dice qua diretta a concentrare l'intera vita questo serve al passo successivo sciogliere l'anima da qualsiasi riferimento al mondo fisico e se la sciogli dal mondo fisico dove va quest'anima nel mondo spirituale un terzium non datur rappresentiamoci una pianta immaginiamo un uomo accanto a quella pianta questa è la descrizione proprio della meditazione sulla rosa croce si rifletta come egli possa recarsi qua e là mentre la pianta è vincolata al suolo ma ci si dica anche questo l'uomo è pieno di passioni e desideri che lo trascinano a molte aberrazioni la pianta invece segue le pure leggi della crescita di foglia in foglia essa schiude senza passione i suoi fiori e i raggi puri del sole questa è l'immagine preliminare per comprendere l'esercizio della meditazione della rosa croce posso dire a me stesso l'uomo gode di una certa perfezione rispetto alla pianta ma per acquistarsi questa perfezione ha dovuto permettere che istinti passioni penetrassero nel suo essere io mi rappresento ora secondo livello della comprensione dell'esercizio il primo è che la pianta si afferma ma è pura io mi rappresento ora che il verde succo scorre attraverso la pianta la linfa ed è l'espressione delle leggi pure prive di passione e della crescita la pianta cresce in una purezza assoluta mi rappresento poi come il sangue rosso scorre attraverso le arterie dell'uomo e in esso vedo l'espressione di istinti desideri e passioni il veicolo delle passioni è il sangue quante volte si dice il sangue gli ha dato la testa scorre lì se un individuo si dice senza emozioni senza emozioni quello è un pezzo di sale un sangue freddo proprio non ha calore del sangue non ha anima queste idee devono diventare viventi nella mia anima è questa la cifra di tutto questo seminario tutto questo seminario è basato su questa frase che il dottore poi dice in altre cose le idee devono diventare viventi nell'anima se rimangono nozioni idee intellettuali erudizione vanno benissimo come intrattenimento esoterico anzi dico io meglio questo che spettacoli scadenti ma con l'esoterismo inteso come percorso evolutivo non hanno niente a che fare l'idea deve diventare vivente nell'anima ricordate le conferenze precedenti il pensiero puro il pensiero libro dai scienzi il pensiero vivente mi rappresento inoltre come l'uomo sia capace di evoluzione come egli possa purificare i suoi istinti e le sue passioni per mezzo delle facoltà superiori della sua anima e per quello siamo qua penso come in tal modo gli elementi inferiori rimangano annientati e come quelle qualità purificate rinascono a un gradino superiore il sangue a quel punto potrà quindi rappresentare l'espressione degli istinti e delle passioni purificate la purificazione del corpo astrale la famosa signoria dell'io di cui abbiamo parlato tante volte allora considero la rosa e dico a me stesso nel petalo della rosa vedo il colore del verde succo della pianta trasformato in rosso e la rosa rossa come la foglia verde segue le leggi pure scevere di passioni della crescita il rosso della rosa può ormai diventare per me il simbolo di un sangue in cui si esprimono gli istinti e le passioni purificate che hanno eliminato i loro elementi inferiori e che nella loro purezza ugualiano ormai le forze che sono attive nella rosa rossa cerco ora di elaborare tali pensieri non solo nella mia mente ma di farli vivere nei miei sentimenti e siamo sempre lì queste sono proprio parole del dottor Stein prese letteralmente in modo assoluto ora dobbiamo girare il pannello a cristalli liquidi non ha cascato niente gli dei ci proteggono può invadermi un sentimento di beatitudine quando mi rappresento la purezza e la mancanza di passione della pianta in crescita posso creare in me il sentimento che determinate perfezioni superiori debbano essere acquistate al prezzo di brame e passioni qualunque qualità superiore acquistate è una inferiore che è stata trasformata non ci sono altri vie questa idea può trasformare la beatitudine in un sentimento più serio può destarsi allora in me un senso di felicità liberatrice se mi abbandona l'idea del sangue rosso che come il succo rosso della rosa può diventare il veicolo delle esperienze pure questo è tutto il preliminare teorico che va approfondito portato a un livello vivente prima di cominciare la meditazione che comincia adesso dopo essersi dati a questi pensieri e sentimenti occorre trasformarli nella seguente rappresentazione simbolica ha detto all'inizio che per la meditazione gli oggetti migliori sono quelli simbolici ci si rappresenti una croce nera questa deve essere il simbolo per i distrutti elementi inferiori distinti e passioni mentre laddove le braccia della croce si incrociano bisogna raffigurarsi sette rose rosse raggianti ordinate a forma di circolo queste rose saranno il simbolo del sangue che esprime le passioni e gli istinti purificati mentre ci si concentra bisogna cercare di escludere ogni altra rappresentazione ogni altro pensiero solo il simbolo caratterizzato deve dimorare spiritualmente nell'anima con la maggiore vivacità possibile evidentemente anche a uno negato per il disegno come il sottoscritto sarebbe stato possibile disegnare la sacroce nera con le rose rosse però avrei vincolato molto la vostra libera immaginazione invece è fondamentale che ognuno se la costruisca dentro di sé da solo quello è un lavoro importante come a livello molto superiore come quello che dicevamo all'inizio di cercare sempre di trovare risposte da soli perché siamo in grado di trovarne molto di più di quanto pensiamo l'influenza di un tale simbolo dipende dalla circostanza di essere stato descritto nel modo descritto prima di servire la concentrazione interiore ecco l'esercizio della visione di questa rosa croce funziona se uno ha capito bene tutto quello che abbiamo letto prima e l'ha fatto diventare vivente in sé stesso quindi è un primo tempo tutto quello che abbiamo letto indispensabile per cominciare poi veramente l'esercizio e questa arriva poi la parte decisiva durante la concentrazione nella meditazione vedete questa è parola del dottore non bisogna richiamare nell'anima i pensieri che hanno servito a preparare il simbolo uno mentre guarda la rosa croce non deve pensare questa è la pianta la pianta il succo puro i pensieri istinti le brame nel sangue poi il sangue no no bisogna concentrarsi esclusivamente sul simbolo su questa croce nera con le rose rosse tutto quello deve essere già entrato nell'anima e giacere nel profondo e aspettare di essere stimolato dalla visione della rosa croce se uno mentre la guarda la medita interiormente a occhi chiusi evidentemente non disegnandosela può seguire i ragionamenti di prima allora ha già rovinato l'esercizio lo ripeto durante la concentrazione cioè la meditazione cioè la parte concentrata della meditazione perché quella di prima era una parte teorica poi arriva il momento in cui bisogna concentrarsi sul simbolo sul simbolo non è che ha sbagliato la parola il dottore questa parte precisa della meditazione che è fatta in due tempi prima comprensione del simbolo e poi meditazione sul simbolo concentrandosi non bisogna richiamare nell'anima i pensieri che hanno servito a preparare il simbolo deve alleggiare spiritualmente nell'anima unicamente l'immagine vivente del simbolo cioè sta rosa che devono essere quasi vive e all'unisono con essa deve vibrare nell'anima il sentimento che è il risultato dei pensieri preparatori i pensieri preparatori devono tutti diventare vivi creare un sentimento vivente che si deposita nel fondo dell'anima l'esercitio va fatto concentrandosi solo sulla meditazione della rosa croce stessa sul simbolo e se tutto è stato fatto bene i due si uniscono da soli e questo è il risultato che bisogna cercare l'effetto viene appunto esercitato dal soffermarsi dell'anima in questa esperienza insistendo 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 quanto più a lungo vi si può trattenere senza essere disturbata da altre rappresentazioni tanto più risulterà efficace l'intero processo questo vale per tutti gli esercizi se sono ben fatti più dura meglio è non di meno è bene perché il sentimento non si affievolisca che oltre al tempo effettivamente dedicato alla concentrazione vengano spesso rievocati i pensieri e i sentimenti che hanno servito nel modo appunto descritto a costruire tale immagine cioè nel quinto capitolo di scienza occulta c'è tutto quello che sto leggendo parola per parola uno lo assimila lo fa suo lo porta a un sentimento vivente che è la fusione di pensiero volontà e sentimento questo si deposita dell'anima meditando solo concentrandoci sul simbolo si richiamano entrambi però periodicamente bisogna andarsi a rileggere tutto quello che ho letto prima cioè tutta la spiegazione della prima parte quella teorica va fatto con una certa cadenza non ogni due giorni ma ognuno sa da solo quanto bisogno ne ha ma se uno alla volta al mese si rilegge tutto mi sembra un ritmo minimo accettabile e tanta più pazienza si applica in tale ricapitolazione cioè nel tornare a ricapitolare tutta la prima parte tanto più l'immagine risulta efficace per l'anima quindi tanto più uno si concentra nell'affrofondire nel fare suo nel rendere vivente tutta la preparazione della prima parte e la spiegazione diciamo pure teorica tanto più l'esercizio riuscirà dopo quando si concentra solo sul simbolo un simbolo come quello descritto non rappresenta nessuna cosa o essere esteriore che venga prodotto dalla natura appunto per questa ragione esso possiede la forza di testare determinate facoltà puramente animiche questo va sottolineato non rappresenta nessuna cosa o essere esteriore che venga prodotto dalla natura l'abbiamo detta all'inizio che l'esercizio serve a distogliere l'anima completamente dal mondo fisico appunto per questa ragione esso possiede la forza di destare determinate facoltà puramente animiche qui c'ho scritto obiezione perché perché gli fecero questa obiezione ma il legno nero esiste in natura le rose esistono in natura il colore nero esiste il colore rosso non è come fa a dire che il simbolo è completamente al di fuori della natura si esistono ma nella composizione del simbolo della rosa croce no non c'è nessuna croce in natura che abbia 107 rose è quella composizione il segreto dell'esercizio il fatto che i simboli elementi comunque esistenti vengono configurati in un modo che non è consono al mondo contingente è al di fuori di questo mondo ed è lo stesso di tutta la parte disciplinare della antroposofia che usiamo pensieri astrusi no usiamo gli stessi concetti e pensieri della vita ordinaria però vengono coordinati configurati e abbinati in un modo particolare che non si trova nel mondo contingente e che è la chiave per uscirne al di fuori perché ripeto uno dei compiti della cattedrale è di orientare veramente verso i mondi spirituali in modo sicuro e onesto sano magia bianca assoluta la via qui descritta conduce anzitutto a ciò che si può chiamare la conoscenza immaginativa siamo arrivati a un fine a posizionare un percorso lungo perché ci sono stati sei esercizi e poi finalmente arriva la meditazione e questo è tutto quello che ho detto prima la direzione della cattedrale che va verso i mondi spirituali è il primo livello a cui arriviamo cos'è? la conoscenza immaginativa il mondo eterico è il più vicino a noi i simboli costruiti nel modo descritto servono a staccare l'anima dalla percezione sensibile e dallo strumento del cervello fisico l'abbiamo parlato tante volte pensiero puro pensiero libero dai sensi al quale l'intelligenza è a tutta prima collegata per via naturale l'intelligenza dell'uomo è collegata dal cervello ai sensi la conoscenza immaginativa significa orientare il cervello eterico in un'altra direzione quindi vedete che quando si parla di meditazione se ne parla secondo me con una certa leggerezza ma la vera meditazione non è per niente una cosa semplice proprio per niente purtroppo molti credono di meditare e molti anche di divulgare la meditazione come vedete non è una cosa semplice adesso però noi la dobbiamo applicare subito al tema di questa di questa conferenza speriamo che non faccia crollare tutto sembra di no scusate metto questo qui rimanici senza rimane bravo rimane lì dunque queste sono le tre preghiere fondamentali per i defunti che sono in realtà tre meditazioni la prima la seconda e la terza hanno tutte quante lo stesso scopo accompagnare realmente il defunto nel suo percorso non con una preghiera generica che poi può essere pure utile ma richiamando meditativamente proprio il percorso quello che stanno facendo per cui loro fanno qualcosa a cui noi collaboriamo della terra consapevolmente e in modo proprio pertinente la prima riguarda i tre giorni dopo la morte fra poco ne parleremo quelli in cui si distacca il corpo eterico la seconda riguarda tutto il periodo che si passa nel Kamaloka che in genere si dice equivale a un terzo della vita terrena conclusa cioè la parte in cui si è dormito in genere si dorme un terzo della giornata una persona che non faccia nessuna attività esoterica incamminandosi verso l'iniziazione si dorme anche un'ora e mezzo massimo due sufficienti perché tra l'altro le prime due ore sono quelle che ricostruiscono le altre hanno un'utilità soprattutto psichica l'iniziato la parte psichica se l'è risolta ora il terzo invece riguarda tutti i defunti che sono morti da più di vent'anni io su questo però non sarei così rigido perché lo stesso Durosteiner poi quando si scrive il viaggio dell'anima e le varie zone del Kamaloka in cui ci si purifica dice se uno si è già purificato sulla terra questa parte la attraversa velocemente non si ferma nemmeno e vabbè ma si attraversa la prima velocemente fortunatamente anche la terza non saranno vent'anni che ci sta a fare tutto sto tempo quindi dice ma questo perché ce lo dice ma se se dobbiamo pregare per un defunto che viveva della concezione dominante una bravissima persona però lì sicuramente i vent'anni ce stanno tutti quindi bisogna insistere in questa preghiera per vent'anni ma se dobbiamo commemorare una persona che sapevamo spiritualmente molto veramente evoluta abbastanza evoluta seriamente evoluta forse vent'anni potrebbero anche essere troppi insomma a un certo punto si può cominciare anche la terza adesso noi vediamo perché diciamo che queste tre sono collegate a tutto quello che abbiamo detto della meditazione scusate pausa sindacale mi faccio vecchio perché abbiamo detto che la meditazione che cos'è in primis la comprensione di tutto il contenuto del simbolo e dopodiché la concentrazione esclusivamente sul simbolo senza ricordare il contenuto che deve essere ormai qualcosa di vivente nel profondo dell'anima che entra in sintonia da solo col simbolo mentre ci concentriamo e qui qual è la prima parte la parte teorica angeli arcangeli arcai entro il tramare eterico accolgono la trama del destino della vita terrena di nome del defunto o della defunta perché quando si muore veniamo accolti dalla terza gerarchia perché che si fa come prima cosa si fanno i famosi tre giorni fra poco li approfondiremo del distacco del corpo eterico e di che cosa è fatto questo corpo eterico di pensieri per tre giorni dopo la morte vediamo tutti i pensieri che abbiamo formulato nella nostra vita durante la vita di Vedia quindi pensieri coscienti intorno a noi tutti contemporanei e copresenti perché il grande segreto del tempo nei mondi spirituali però l'ho già detto prima tempo e spazio non li eluderò lo prometto lo rinvio alla conferenza successiva sempre che quindi noi sappiamo che gli angeli arcangeli vivono nella sfera del pensare e del sistema nervoso cioè del pensare sono quelli più vicini a noi la gerarchia più vicina a noi mentre per esempio sappiamo che la seconda vive in tutto l'apparato circolatorio respiratorio cuore polmoni e la terza addirittura in tutto il ricambio l'elaborazione dei cibi è il lavoro più pesante e più profondo perché le gerarchie più alte sono quelle che lavorano più profondamente nella materia può sembrare una contraddizione ma per lavorare a fondo nella materia ci vogliono le forze più potenti tra il pensare il sentire il voler il respirare circolazione del sangue il ricambio la forza meno profonda è quella del pensare umano attuale che tra l'altro è proprio superficiale deboluccio mettiamoci pure un po' moribondo quindi gli angeli sono quelli che ci accolgono in questa sfera perché accolgono i pensieri che noi depositiamo dopo la morte nel cosmo quindi è perfettamente logico avendo capito questo recitare la meditazione questa ma non pensando al fatto che vi ho spiegato che gli angeli sono quelli che si occupano come nella rosa croce questo deve essere diventato qualcosa di assorbito completamente e non è facile assorbire l'antroposofia bisogna dare al dio tempo il suo contributo abbiamo sempre detto che l'antroposofia non si impara si mangia si digerisce si mastica la fretta nell'antroposofia è deleteria come l'eccesso di nozioni superficiali scordinate tra di loro perché una divulgazione etroposofia che non sia propedeutica e organica forse sarebbe meglio dedicarsi ad altre strade che non richiedono una tale organicità una volta che uno ha capito bene qual è il ruolo degli angeli e degli arcangeli e lo può anche ampliare leggendo i testi specifici del dottore ce ne sono tanti una volta che uno l'ha benato dopo si concentra esclusivamente su queste parole che sono le parole del dottore nei primi tre giorni dalla morte del defunto questa piccola serie di parole li aiutano in un modo incredibile perché? perché gli danno una coscienza temporale che lui ancora non ha di quello che sta facendo del suo rapporto che sta iniziando con gli angeli dopo questi tre giorni comincia il periodo del cosiddetto Kamaloka del quale però non ci occupiamo oggi perché vedete quanto siamo già in là e questa è la preghiera ripeto per questi famosi vent'anni e qui lo stesso c'è lo stesso background se fondono in ex usia di Nam Schidiotetes seconda gerarchia nel sentire l'astrale del cosmo è perché questo era il mondo eterico questo è il mondo astrale il Kamaloka si svolge tutto nel mondo astrale le conseguenze secondo giustizia della vita terrena è perché qui il karma la s'allunga qui il karma la fa da protagonista quando si è ben afferrato il compito di questa seconda gerarchia si è assorbito bene tutto si medita questo con le stesse regole della meditazione della rosa croce infine dopo vent'anni io le dico perché se dicessi solo questa oggi che è quella che veramente riguarda il distacco dalla terra tutti quelli che hanno dei defunti morti da dieci anni da trent'anni rimarrebbero senza nessuna possibilità di agitazione invece no se dopo i vent'anni se per esempio uno ha perso un genitore venticinque anni fa vabbè può stare tranquillo che questa è la brighiera sua risorgono nei troni che Rubini e Serafini quello loro essere contesto con il quale scusate loro essere contesto d'azione le conseguenze secondo giustizia della vita della terra perché quale loro essere contesto d'azione perché le le gerarchie hanno dei compiti anche nel tempo la prima gerarchia è quella che poi deve dipanare il karma dal momento in cui ci rincarniamo se per esempio nella vita prenatale è stato stabilito karmicamente che due persone si devono incarnare e poi incontrare quando una ha trent'anni e l'altra ha ventiquattro la prima gerarchia ha la forza dalla nascita fino a quel momento di ordinare le loro vite in modo che a quel punto si incontrino ecco perché vedete parlo di quella necessità organica perché se uno arriva a dire una verità di questo tipo senza un lungo background molto progressivo risulta incredibile a come è possibile c'è qualcuno che tra quando nasce organizza tutta la mia vita in modo che io a trent'anni incontro invece è proprio così negli incontri karmici non tutti gli incontri sono karmici e se no il karma sarebbe una finestra del passato immutabile no no si forma nuovo karma con incontri che non sono karmici e dal momento in cui si verificano cominciano a generare nuovo karma però fino a quel punto no ma gli incontri karmici sono tutti guidati così dalla prima gerarchia se qualcuno arrivato più o meno alla mia età o anche prima guarda indietro la sua vita e si accogge che ci sono stati degli incontri con delle persone non molti non molti una mano è anche troppo per contarli che sono stati decisivi e se veramente fa questa meditazione a fondo per un defunto arriverà a percepire benissimo il karma di tutte e due quindi queste sono tre forme di meditazione che seguono la stessa metodologia della meditazione madre che è la prima di tutte la fondamentale a rosa croce bisogna prima assorbire in modo vivente il significato e dopo concentrarsi esclusivamente sulle parole tutte e tre sono un immenso aiuto per i defunti immenso perché perché stabiliscono un contatto scusate specifico non è la preghiera generica che poi vabbè non è che sto dicendo che le persone non devono pregare genericamente se uno se conosce solo le canzonette musica è pure quella se uno arriva a conoscere il regno tedesco di Brahms secondo me avrà un altro arricchimento animico ecco è fondamentale però che non diventino gioculatorie ripetute no no bisogna avere sempre presente quella metodologia e vale anche per qui se uno a un certo punto deve andarsi a ristudiare nei testi appositi che cosa fanno gli angeli come operano in quale parte del corpo umano sono diciamo così più concentrati perché poi non ci sono ste rigide testa no 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 il corpo umano ha tre dimensioni autonome ma completamente cooperanti saremmo freschi se la testa andasse per conto suo il polmonio no 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 però prevalentemente gli angeli sono concentrati sul pensiero quindi periodicamente andarsi a rileggere per esempio gerarchie spirituali uno dei libri che si trovano negli elenchi che la libreria molto diligentemente acclude sempre alle conferenze e sono propedeutici sono come le conferenze in modo da costruire anche con quelli la cattedrale e si vede benissimo nelle gerarchie qual è il ruolo di tutti e tre ogni tanto va bene andarsela a ripendere ora arriviamo alla domanda che arriva più spesso perché tra l'altro ultimamente perché è proprio vero che le vere forme spirituali irradiano e si diffondono collettivamente è arrivato un altissimo numero di domande sui defunti ho risposto a tutti chi l'ha mandato sa che sto dicendo il vero a parte i pazienti perché è così complicato che non basterà una conferenza fra pochi giorni troverà la risposta la domanda fondamentale è ma come faccio a contattare un defunto a parlare con lui è umano è umano qui l'antroposofia è piuttosto netta per dialogare con un defunto ci vuole la coscienza immaginativa per lo meno non è qualcosa che si possa fare prima di un ingresso iniziatico coscienza immaginativa significa aver già passato la soglia e quando uno passa la soglia dove va? è nel regno dei morti l'iniziazione il passaggio della soglia che molti devo dire con una certa leggerezza mi chiedono come si fa a accelerare quali soglia che ti acceleri quello lo decidono le gerarchie dopo non si torna indietro una volta che è passata la soglia si convive in quel mondo lì la soglia è vivere nel mondo della morte e quindi dove stanno i defunti per cui chi ha raggiunto chi raggiunge anche i gradi parziali perché anche la coscienza immaginativa nel mondo della terza gerarchia ci sono gli angeli e stanno a sto livello ci sono gli arcangeli e poi ci sono gli arcai e tutti e tre si raggiungono con la coscienza immaginativa però anche lì c'è un cursus honorum però subito l'obiezione sarebbe quella che l'antroposofia mette subito da parte cioè tutto lo spiritismo se ti senti portato verso quella parte e vuoi tentare dicono fallo l'antroposofia non riconosce lo spiritismo non lo riconosce assolutamente faccio solo un piccolo esempio per esempio le persone terribilmente ambiziose hanno un'enorme difficoltà dopo la morte a staccarsi dalla atmosfera terrestre perché bisogna progredire fino all'orbita della luna ho già promesso che di questo mi occupo la prossima conferenza sempre che quando cominciano il coro dopo i tre giorni per esempio di cui stiamo parlando tutti i loro pensieri vengono abbandonati nel cosmo circostante comunque nell'atmosfera cioè della terra circostante noi dobbiamo sempre sapere mistero che approfondiremo che quelli che qui sono pensieri per noi nel mondo spirituale sono elementari viventi quindi nei tre giorni dopo la morte uno vede intorno a sé tutti i propri pensieri che sono diventati elementari viventi perché dal mondo spirituale nel mondo eterico è sempre così il pensiero corrisponde all'elementare vivente quindi il medium molto spesso percepisce questi elementari viventi ma sono un cadavere che l'io ha abbandonato l'io sta già camminando da altre parti comunque detto questo ripeto questo seminario ha sempre rispettato la libertà assoluta per cui se qualcuno si sente detenizzato da quella parte la segua però sappia che non è la via antroposofica detto tutto questo il dialogo con i defunti bisogna anche saperlo un po' posizionare dovremmo parlare con qualcuno che non ha più il nostro tempo non è il nostro spazio non ha la nostra causalità non ha i nostri ritmi non dispone più di un corpo fisico non può più formulare pensieri in forma razionale e concettuale diventa veramente un po' difficile se qualcuno pensa che io sto esagerando si legga leggere e ascoltare occulto del dottore e lì lui dà alcune indicazioni di come procede lui quando avvicina un defunto e si renderà conto che non sto esagerando leggere occulto e ascoltare occulto editrice antroposofica la cosa più importante però dovrebbe essere quella che ho detto a quel disgraziato che è poveretto che aveva perso la moglie nell'incidente noi dovremmo essere spinti soprattutto dal desiderio di aiutarli i defunti se gli vogliamo veramente bene a qualcuno questa dovrebbe essere la molla principale e in questo senso possiamo fare moltissimo instaurando un contatto con loro a livello subconscio non ci separiamo mai mai allora il primo gesto potente che si può fare verso un defunto è inviargli un sincero e disinteressato impulso d'amore dice ma che vuol dire perché tutte le preghiere verso i defunti sono colorate di nostalgia solitudine ah quanto me manchi ah Dio come faccio senza sì saranno anche spinti dall'affetto verso il defunto ma va sicuro che le respinge tutti non ne accoglie nemmeno uno e qual è un pensiero invece bello faccio una piccola chiosa perché in un film vecchio inglese mi ricordo gli inglesi quando fanno i film bene li fanno veramente bene c'è una frase conclusiva di Anthony Hopkins che mi piacque moltissimo lui diceva il dolore è spesso ciò che resta di una grande felicità ecco comunicare al defunto la gratitudine per la felicità della vita comunque passata insieme insieme a questo gesto d'amore questo è un impulso disinteressato lo riceve e gli fa molto bene comunicare al defunto per esempio la certezza che noi sappiamo che è ancora vivo e vicino a noi che arriverà il giorno in cui noi anche saremo dove lui e una preparazione spirituale come quella antroposofica aiuta moltissimo il riconoscimento perché anche quello l'altra parte è un po' un problema poi lo esamineremo questi sono i tipi di messaggi impulsi d'amore che bisogna avere la forza di mandarlo se si riesce a farlo il dottor Stagli dice che è quasi impossibile che il defunto non risponda e come risponde con una sensazione di calore beatificante fortissima nella sfera del cuore che si riconosce come assolutamente singolare mai provata prima e che poi permane nel pensare nel sentire nel volere a lungo questo è autenticamente un messaggio dal defunto mentre invece tutti i messaggi attraverso immagini ho sognato mi arrivano tante ma quelle sono tutte riecosumazioni di nostre immaginazioni che peschiamo nel nostro trucconcio con il defunto niente a che vedere primo quindi un messaggio d'amore di questo tenero ottiene subito uno scopo eccezionale vivifica la vita del defunto come fa l'arte qui da noi voi immaginate di vivere senza nessuna forma d'arte in certi regimi tremendi pure l'arte era sotto disciplina di partito per carità era meglio non avercela ma immaginate tornate a casa dal lavoro niente musica niente televisione niente a letteratura niente concerti niente l'avvocato nella sua libreria ha soltanto pandette repertorie le sentenze il medico ha soltanto libri di anatomia arte romanzi letteralmente nulla ecco la vita di un difunto che non riceva dei impulsi di amore disinteressati è così è come una vita di un essere umano senza l'arte questo rientra in quel discorso famoso iniziale della disperazione dei defunti che ha motivato l'azione di Rudolf Steiner per sua stessa dichiarazione secondo c'è qualcosa di diverso che si può fare un socio chiese un giorno a Rudolf Steiner è morta una pittrice alla quale io ero molto legato come posso trovare un modo per ricontattarla in qualche misura Rudolf Steiner suggerì questo cerchi con tutta la sua forza meditativa di concentrazione e meditazione quello più la concentrazione evidentemente era uno che le faceva da tempo di visionare nella sua mente questa donna nel momento più importante della sua vita qual è? mentre dipinge cerchi di farsela vivere proprio dentro questa immagine quando è sicuro di averla ben assorbita la elimini a quel punto rimarrà tutta una serie di sensazioni dentro di lei provocate dall'immagine che ha eliminato pure qui vedete è importante come è stato costruito tutto il percorso cerchi di indirizzare tutta questa serie di emozioni generate dall'immagine eliminata verso la defunta questo ha detto il dottor Steiner è la possibilità dell'inizio di un dialogo quindi già si vede anche da questo che una persona che non si sia allenata per niente nel pensare nel sentire nel volere trova difficile questa capacità rappresentativa così forte e ciò nonostante ci può ci deve provare poi ci sono due atteggiamenti di vita scusate che predispongono molto a iniziare un contatto un qualche rapporto con un defunto il primo è quello di interessarsi molto all'epoca che ci ha formato il dottore faceva un esempio diceva tra quelli che frequento tutti sanno chi era Ligurgo ma se gli chiedo qualcosa della realtà contemporanea non sanno niente ai tempi suoi secondo me è peggiorato è peggiorato non so perché gli antroposofi spessissimo si richiudono nel loro mondo non se ne accorgono diventano una setta poi non leggo non si informano sanno niente quello che succede intorno invece il dottore usava proprio questa frase interessarsi alle modalità dell'epoca che ci ha formato che poi comunque a 50 anni è più o meno quella che uno aveva quando andava all'elementari quando qualcuno mi chiede un percorso di approfondimento verticale sempre concludo dicendo si interessi con equilibrata partecipazione alle cose del mondo e lo stretto indispensabile a sé medesimo perché non so niente da fare la via esoterica come l'antroposofia tende a rendere egocentrici tutti diventiamo la cosa più importante del mondo tutto magari uno non se ne accorge pure ma piano piano Lucifero se lo prende se lo prende è un rischio enorme ne abbiamo parlato nella conferenza aspetti pratici del 21 agosto del 21 quindi interessarsi molto molto questo rispone molto ad aprirsi ad eventuali interventi dei defunti poi come si manifesteranno questi interventi questo riguarda il movimento le azioni dei defunti lo rinvio pure questo perché non è possibile agire nei due sensi contemporaneamente ce n'è un'altra ancora qualcosa verso il quale l'antroposofia può essere un grandissimo aiuto come in tutto il resto sviluppare la sensibilità verso il possibile ma che significa una volta feci una descrizione mi ricordo non proprio i dettagli della vicenda di un ufficiale che durante la guerra doveva andarsi a imbarcare non so due forse era Siracusa per una serie di errori umani errori suoi e degli altri e arriva che in porto vede la nave e poi mentre si dispera la nave esplode si inurata e si salva la pelle lì sicuramente è stato un suo caro defunto che l'ha salvato non ci sono dubbi col concorso di gerarchie varie ma è stato quello sicuramente ecco i defunti operano moltissimo in queste circostanze la maggior parte delle quali avviene senza che ce ne rendiamo conto beh magari dimentica a casa le chiavi torna perde tre minuti e per quei tre minuti perde perde l'autobus e poi non segue più la cosa ma magari quell'autobus è andato fuori strada questo è un caso già piuttosto eclatante ma ce ne sono tante piccole di queste cose di cui noi non sappiamo nulla ma lì operano propri defunti ecco sviluppare un'attenzione verso il possibile crea un altro bacino d'utenza che possiamo condividere con loro ricordandosi che il karma non è mai rigido il karma sceglie sempre una tra le forme possibili e quando vedremo poi in futuro i defunti hanno una grossa attività nella dipanazione del karma ci sono ancora due corollari piuttosto complessi noi abbiamo due momenti nella giornata in cui sicuramente incontriamo il mondo spirituale vis a vis proprio frontalmente quando ci addormentiamo e quando ci risvegliamo la mattina sono i due momenti in cui incontriamo i due guardiani e anche i due ostacolatori principali Lucifero e Arrimane in quei momenti c'è la massima possibilità di incontro con un defunto si capisce perché se la massima possibilità in cui incontriamo i mondi spirituali loro stanno lì ci siamo anche noi però in quel momento la coscienza di veglia non disturba più perché ci siamo addormentati oppure sta appena appena cominciando a disturbare perché appena ci risvegliamo noi oggi ci risvegliamo sempre in modo brutale così male addirittura con la radio sveglia corri nella tradizione contadina in molti paesi c'era questa la saggezza del risveglio lento perché il contadino sapeva che in quei propri istanti del risveglio lento riceveva molte dritte come diremmo oggi siccome aveva cultura non aveva altro quelle dritte per guidarlo nella vita erano molto importanti nella cultura contadina forse questo ancora come abitudine almeno del risveglio lento c'è ora quindi il momento migliore per porre un quesito a un defunto è quando ci addormentiamo e il momento più probabile in cui ci risponde è quello in cui ci risvegliamo ora naturalmente come si pone un quesito a un defunto beh il dottore raccomanda sempre di usare più verbi aggettivi e meno sostantivi ma ci vuole essere tutta la potenza dell'anima dentro se è una domandina fredda qui quasi burocratica assolutamente e questo si ottiene proprio con la concentrazione e la moditazione si arriva a ottenere questa concentrazione per cui quando uno fa una domanda al defunto riesce veramente a caricarla di questa potenza e poi il contenuto della domanda dovrebbe essere disinteressato se uno fa una domanda troppo personale troppo legata a se stesso come faccio a vivere senza di te dimmi la domanda interessata non interessata per un defunto per esempio che posso fare per te sinceramente che altro posso fare per te il dottore racconta un caso di uno che rispose che era molto preoccupato perché un figlio non aveva completato gli studi e quello completò gli studi al figlio e dopo quel defunto non lo addormentò più è un caso che descrive il dottore questi sono casi limiti c'è una cosa molto interessante da sapere non è importante fare la domanda proprio al momento in cui ci addormentiamo se ci viene un momento di ispirazione durante la giornata va fatta in quel momento perché comunque poi parte quando ci addormentiamo come la posta potete portare una lettera alle nove se non è quella parte tutta sempre a mezzogiorno dove vivo io è così quindi la domanda va fatta nel momento in cui ci sentiamo più ispirati e poi l'ultimo corollario è il più difficile di tutti qual è? è che il mondo spirituale è il capovolto esattamente l'opposto l'incontrario di questo del mondo fisico se qui scrivete un numero 1, 2, 3 nel mondo spirituale si legge 3, 2, 1 che vuol dire tutto questo? è delle conseguenze che spiegano molto perché c'è l'abisso e altrettanto perché dobbiamo cercare di superarlo se voi immandate un messaggio a un defunto lo percepite come se fosse lui che vi parla cerco di spiegare i sogni in cui un defunto ci dice questo sono semplicemente le cose che conoscimento o inconsciamente noi abbiamo detto a lui e che la nostra coscienza unilica ci ripropone in forma di sogno quel sogno non è un messaggio suo è quello che noi abbiamo mandato conoscimento o inconsciamente si è cristallizzato nel sogno se invece veramente il defunto ci manda una parola una parola chiave un messaggio lo percepiamo come se fosse la nostra produzione qui si può essere molto attenti uno può anche fare una domanda a un defunto perché per esempio c'è un problema molto molto serio e non sa se deve andare a destra o a sinistra certo le domande vanno fatte con molta intelligenza dovrebbero presupporre scusate delle risposte sintetiche lapidarie poi a un certo punto sente dentro di sé che deve andare dopo aver elaborato a luco che deve andare a destra se sta molto attento si accorge che la qualità di quel pensiero non era quella di tutti i suoi pensieri normali si può arrivare a avere questa percezione ve la sicuro è possibile se sa tutto quello di cui stiamo parlando allora capisce che quella parola quel verbo quella risposta non è affarina sua gliel'ha mandata a un defunto quello a cui aveva chiesto qualcosa o anche a cui non gli aveva chiesto nulla questo è particolarmente evidente quando il contenuto di questa parola è proprio estraneo ai nostri pensieri normali ogni tanto qualcuno ha un pensiero che gli risolve la situazione ma è totalmente estraneo al suo modo di pensare se ha sviluppato attraverso quello che cerchiamo di fare qui la sensibilità verso le sfumature sottili dell'esistenza si mette subito un preallarme capisce questo non è un pensiero mio se è un pensiero positivo non può venire dagli ostacolatori è molto probabile che venga da un defunto ora fino adesso abbiamo parlato più di noi che dei defunti perché questa conferenza si intitola il distacco dalla terra mi ci serve un'altra pausa sindacale scusate ora il distacco della terra è evidente il momento della morte il momento della morte si caratterizza per che cosa abbandono definitivo del corpo fisico da quel momento in poi il defunto non ha più nulla a che fare con il suo corpo fisico qualunque fine faccia e lo sperimenta questo abbandono questo è qualcosa di grandioso sperimenta proprio l'abbandono del corpo fisico e la prima cosa che percepisce dopo è proprio quello che ha abbandonato Ludo Stein dà un'immagine divertente ma potente è come se un pulcino dentro l'uomo col becco c'è il buco lo rompe esce fuori si gira la prima cosa che vede è l'uovo che ha appena lasciato ecco per il defunto il primo istante della morte è proprio vede il corpo fisico che ha abbandonato e insieme al corpo fisico abbandona alla terra l'essenza della sua vita cioè la sintesi della moralità della conoscenza e del senso estetico che sono le tre grandi corsie lungo la quale si sale verso i mondi spirituali dopodiché succede qualcosa assolutamente grandioso perché vista dalla terra giustamente la morte è un evento tragico ci priva di compagni di viaggio a meno che non subentri durante delle malattie dolorosissime questa purtroppo è un'esperienza che avranno fatti in molti a un certo punto quando sto poveretto o sta poveretta muoiono si tira un senso di sollievo perché non gli funziona più la morfina non gli funziona più niente e allora finalmente il corpo fisico smette di tormentare l'anima però dall'altra parte invece è vissuta come l'esperienza più grandiosa di tutto il viaggio ultramondano perché il defunto percepisce la vittoria dello spirito sulla morte e sulla materia la percepisce con una chiarezza assoluta qualunque sia il suo grado di istruzione per di più nel vuoto lasciato da quel corpo che è provvisoriamente un vuoto evidente per lui vede che c'è un posto che può riempire solo lui con il suo io e la sua anima e che è un posto unico in tutto il cosmo che non può essere riempito da nessun altro il dottore dà un'immagine bellissima dice capisce il defunto di essere una nota unica indispensabile in tutto l'universo e necessaria a tutto l'universo e questo avviene tutto in una cadenza temporale che non è la nostra terrestre è già quella dell'aldilà questa sintesi di esperienze è la base dell'autocoscienza dell'individuo dall'altra parte che come dimostreremo fra poco non si perde e per tutto il viaggio di un tramondano ha sempre la visione di questo momento della morte come base prima ci sono anche altri elementi della sua autocoscienza nell'aldilà poi noi sappiamo che la prima esperienza che si fa sono i tre giorni del distacco del corpo eterico l'abbiamo già detto il defunto vede tutti i suoi pensieri intorno a sé qui però c'è qualcosa di assolutamente importante che deve essere acquisito prima di morire se no è molto difficile dopo il defunto in quei tre giorni deve essere in grado di fare una valutazione sintetica della sua esistenza tradotto nella solita abusata immagine deve sapere sintetizzare cosa ha fatto dei venti talenti che ha avuto all'inizio se l'ha moltiplicato se l'ha fatti fruttare se le ha sprecate se è andato a finire addirittura a debito che ha speso più dei venti talenti è una presa di coscienza fondamentale perché si unisce a quella che ho appena descritto e diventa la base vivente per cui il defunto costruisce il proprio karma nell'aldilà lui partecipa poi naturalmente ci sono le gerarchie che collaborano quindi è importantissimo che il defunto in quei tre giorni riesca a fare una sintesi del valore della propria vita qui anche molte domande arrivano perché c'è una tendenza oggi indiscutibile ad affrettare i funerali probabilmente in ospedale non c'è alternativa non lo so forse hanno hanno scoperto qualche sistema ma qualunque modo si sviluppi poi il funerale il defunto questi tre giorni li fa comunque anche se il funerale è il giorno dopo però però proprio per la serenità di questa valutazione del corso di tutta la vita come corollario ultronio ripeto quello che deve fare il defunto lo fa in qualunque modo muoia e qualunque momento poi venga sviluppato il funerale pensate i morti in guerra non gli rifanno nemmeno i funerali come fa ma se è possibile però tenersi in casa un defunto tre giorni in una stanza in santa pace resistendo un po' alle pressioni delle pompe funebre della uso eccetera e fatelo questo tentativo fatelo non cambia niente di sostanziale ma è un ulteriore aiuto che gli diamo qui adesso si pone il grande quesito conclusivo ma l'autocoscienza individuale dopo la morte rimane o no? eh non è da poco vedete noi ci possiamo rifare alla grande querella che ci fu tra i domenicani Averroè qual era questo contenuto di questa querella beh Averroè diceva il pensiero appartiene al cosmo quando un individuo nasce il cosmo gli presta una certa quantità di pensiero che quando l'individuo muore restituisce al cosmo e invece i domenicani che erano già inseriti nel nuovo nella quinta epoca nel quinto periodo mentre Averroè apparteneva ancora tanto al terzo e al quarto si inveivano contro questo diceva no il pensiero è la base della coscienza autopensante dell'individuo e si conserva anche dopo la morte fu una chereltra tremenda a base di insulti proprio allora chi aveva ragione beh Averroè per quello che riguarda il suo tempo aveva ragione quando in passato effettivamente il pensiero era tutta una gestione del cosmo l'essere umano si limitava a ricevere pensieri non aveva sviluppato assolutamente un'autoscienza pensante individuale quindi in nessun modo se la poteva portare dopo la morte quindi tutte le antiche teorie che sottolineano questo fatto che con la morte semplicemente il patrimonio pensante dell'individuo tornava nel cosmo per quel periodo Averroè non aveva torto e i domenicani però avevano assolutamente ragione perché ci trovavamo in un altro periodo avevano torto ad aggredire così Averroè che comunque un religioso non dovrebbe aggredire in questo modo perché Averroè per il suo tempo aveva ragione qual è stata la grande discriminante che il logos la sorgente stesso del pensare logos è la stessa radice della parola logica e logica che cos'è è l'arte del pensiero si è trasferito con un lungo percorso dal sole alla terra questo l'abbiamo affrontato apposta ecco perché questa conferenza si può fare oggi dopo quella prima sul logos della terra che cosa ha trasferito dunque il pensiero non è più una gestione del cosmo ma gradualmente è diventato una gestione del singolo individuo come è oggi questo però è stato un processo lunghissimo che ha raggiunto il suo apice nel nono secolo lì proprio c'è stata la frattura il pensiero si è staccato dalla sfera solare ed è entrato in quella terrestre ma il Cristo stesso con la resurrezione è diventato lo spirito della terra quindi il logos la sorgente del pensiero sta ora sulla terra e ci ha messo naturalmente molto tempo a rendersi disponibili per il singolo essere umano e come lo fa attraverso l'anima cosciente Verroè non lo poteva sapere perché i suoi tempi c'erano solo ancora un'anima razionale per certi versi persino un po' ancora molto inquinata da quella da quella senziente l'anima cosciente si affaccia poi come risultato del percorso del pensiero dal cosmo all'uomo abbiamo parlato sulla conferenza su Michele cominciato in Palestina duemila anni fa e conclusosi quando? quando comincia l'epoca moderna nel 1413 l'anima cosciente diventa disponibile per l'umanità della civiltà occidentale per tutto quello che diciamo qui riguarda la civiltà occidentale da quando appaiono Galileo Copernico insomma il 1413 è l'anno di inizio ma non siamo così fiscalisti dal quindicesimo secolo e che cosa comporta questo? comporta che cosa? che quando Mosè chiede al Logos tu mi hai imposto dieci regolamenti le tavole così dure ma quando il mio popolo mi chiede chi è il Dio che ce le impone che gli devo dire tu chi sei? il Logos risponde digli che te l'ha detto l'io sono il principio proprio dell'autocoscienza il Cristo porta sulla Terra il principio stesso dell'autocoscienza pensante trasferendo se stesso e la forza stessa del Logos cioè la radice di ogni pensiero quindi quando comincia l'epoca dell'anima cosciente comincia la possibilità di un'autocoscienza individuale pensante e quindi la possibilità di portarsela oltre la morte per cui Averroè ai suoi tempi aveva ragione e i dominicani che sono proprio il simbolo del nuovo sistema addirittura l'anima cosciente per molto tempo è stata affidata proprio a delle personalità dominicane hanno ragione anche loro quindi che cosa significa questo? che dobbiamo qualificare un po' meglio che cos'è quest'anima cosciente intanto le prime due si chiamano senziente e razionale questa si chiama cosciente vuol dire che ha proprio a che fa con la coscienza e che cos'è l'anima cosciente? è quella parte dell'anima che accoglie e raccoglie e conserva quanto di eterno c'è nel vero buono che sarebbe la morale nella vera conoscenza e nella vera arte cioè nella vera estetica le tre corsie di cui parlavamo prima l'anima cosciente raccoglie e conserva quanto c'è di eterno in queste tre dimensioni fondamentali quindi è già cosciente e raccoglie quanto c'è di eterno questo già fa capire perché è in grado di superare la morte ma non basta adesso devo fare un'altra manovra qui elettronica che mi preoccupa sempre un po' speriamo bene dunque Rudolf Steiner sapete descrive l'essere umano in nove componenti corpo fisico corpo eterico corpo astrale anima sensiente anima razionale anima cosciente sé spirituale spiritoidale uomo spirito questi si chiamano anche manas budi atma uno due tre quattro cinque sei sette otto nove però poi dice che il corpo astrale e l'anima sensiente sostanzialmente sono una cosa sola e dice pure che l'anima cosciente e il sé spirituale sono una cosa sola tendono ad essere una cosa sola sia questo che questo per cui alla fine l'essere umano è fatto di sette parti eterico e fisico eterico astrale io perché l'anima io si presenta per la mia volta nell'anima razionale banas budi e atma cioè sé spirituale spirito vitale uomo spirito che sono quindi sette componenti quindi l'anima cosciente è cosciente conserva quanto di eterno c'è nelle tre autostrade fondamentali della nostra vita moralità conoscenza arte ed è tutt'uno con la parte immortale di noi il sé la scintilla divina che da allora da quando si è stata concessa continuamente si autoidentifica si perfeziona meglio proprio col contatto con l'anima cosciente è l'anima cosciente che ti porta all'autoindividuazione sempre più evoluta di vita in vita questo che significa che l'umanità si evolve quindi arrivata al punto dell'anima cosciente tra le varie possibilità evolutive c'è pure quella di portarsi l'autocoscienza individuale che ci siamo conquistati in una vita oltre la morte possibilità che prima non c'era prima del XV secolo solo rarissime personalità collegate con dei fenomeni iniziatici sempre collegati con delle realtà iniziatiche quindi tutto questo naturalmente non ha mai niente a che fare con meccanismi perché ma è molto semplice l'individuo è libero se vive una vita in cui l'anima cosciente non la nutre per niente non si occupa della vera moralità non si occupa della vera conoscenza non ha un atteggiamento costruttivo verso la vera arte dice ma c'è la vera arte eh sì la vera arte trasporta il mondo spirituale in questo mondo l'altra no e ovviamente sarà un eccellente razionale però ha lavorato molto poco da questa parte e al sé spirituale non è che gli porti poi tutti questi grandi doni beh il suo post-mortem sarà diverso da una persona che ha passato la vita a cercare le sorgenti della moralità c'è un bellissimo testo del dottor Stein filosofia della libertà la base del significato pieno della parola morale e della parola libertà che sono collegatissimi ha cercato tutta la via la vera conoscenza scienza occulta che c'è di più potente di quel testo e ha cercato tutta la vita di raffinare se stesso o magari anche producendo arte un artista attraverso la grande arte il dottore in materia pensate quanto ha scritto senza la musica senza i colori grandi del rinascimento i cinque libri sulle arti figurative se uno di tutto questo ha fatto lo scopo della sua vita beh la sua unione col sé spirituale sarà molto fruttifera nell'aldilà sarà capace di conservarsi la coscienza anche nei momenti in cui è importantissimo conservarla perché si decide il karma della propria vita si fanno le scelte decisive ma questo l'ho già detto prima oggi non lo posso trattare se no dovrei essere superficiale e sbrigativo e questo in antroposofia vera non si può fare bisogna pazientare fino alla conferenza successiva meditando e assorbendo molto questa ora siamo arrivati adesso ad un elemento che chiude questa giornata e che è un po' il riassunto di quello che abbiamo detto e perché perché rimontiamo questo e speriamola bene vedete questa è la formula occulta che tutti gli occultisti cristiani di origine cristiana hanno sempre conosciuto e che riassume tutta la vita dell'essere umano perché la prima frase dice ex Deo universale di tutto il cosmo che ha creato il mondo effondendo se stesso nella creazione rifiutando di rimanerne a parte fuori quindi il sostrato vivente di tutto ciò che esiste noi lo chiamiamo il padre e noi quindi padre o Deo Dio ex Deo nascimo l'essere umano nasce da questo substrato cosmico per spiritum santo revivisimo questa è la forza che al momento giusto ci spinge verso una nuova rincarnazione la rincarnazione esiste naturalmente e non va messa in dubbio certamente a volte si può anche scendere ai livelli molto bassi no non è quella quindi quello che riguarda l'attuale conferenza che cos'è il distacco dalla terra è solo questo in Cristo morimur eh ma con quello che abbiamo detto prima lo comprendiamo bene questa è un'esortazione mentre queste due sono due affermazioni noi non possiamo farci niente sul fatto che nasciamo da Dio non possiamo far niente sulla forza dello Spirito Santo che ci fa rincarnare ma questa è un'esortazione che vuol dire si muore bene quando si muore in Cristo ma l'abbiamo spiegato prima il Cristo porta l'autoforza per l'autopensante che sviluppa l'anima cosciente e l'anima cosciente è collegata col sé immortale e può creare dunque questa metamorfosi per cui l'autocoscienza individuale supera la morte e naturalmente poi subisce molte metamorfosi ma questo succede anche durante la vita fisica pensate l'autocoscienza che è un bambino a dieci anni è quella che può avere un uomo a settant'anni sono sempre la stessa persona ma quasi irriconoscibili noi siamo arrivati a questo spiegando anche un altro processo molto delicato il dottore dice parole testuali chi trova un rapporto col Cristo almeno a un livello di un sentimento profondo e devoto quindi non sentimentale perché molto spesso si può trovare un sentimento religioso che è sentimentalismo no se uno trova dice il dottore un rapporto col Cristo sulla base di un sentimento autentico e devoto il Cristo gli consente di mantenersi come io individuale nel post mortem in mezzo ad altri dio individuali perché e l'abbiamo spiegato trasporto del pensiero e l'autocoscienza trasporto del locus dal sole alla terra noi questo rapporto l'abbiamo anche specificato meglio in quella che è l'eterizzazione del sangue il sangue arrivato alla sfera cardiaca si aterizza sempre e manda una luce verso l'epifisi molto importante perché deve diventare un organo guida in futuro per chi trova un rapporto col Cristo perlomeno a livello di questo sentimento profondo e autentico a questa correnza si affianca quella cristica e si ha una metamorfosi del sangue e quindi del pensare e lì comincia che cosa? la spiegazione del perché il dottore dice il cristianesimo è un fatto mistico dobbiamo concludere con un'affermazione che abbiamo sottolineato in passato fondamentale e qual è? il Cristo prima è morto e poi è resuscitato noi dobbiamo fare il contrario per poter morire in Cristo dobbiamo resuscitare prima e poi morire il rapporto va stabilito qui sulla terra nell'aldilà non si può fare nulla e il rapporto oggi mi limito a evocarlo ma nelle tre conferenze precedenti l'abbiamo apposta approfondito per poter arrivare a questa oggi quindi la vera sintesi di tutto quello che abbiamo detto è proprio questa frase in Cristo morimo vi ringraziamo di sostenerci e seguirci sempre tramite iscriviti abbonati e il pulsante grazie avete contribuito a rendere grande questa realtà se vuoi conoscere i libri di cui parla questo video clicca sull'icona che trovi a sinistra dello schermo visualizza i prodotti e si aprirà il menu sempre aggiornato grazie a tutti